ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi voglio aprire con voi un calendario dell'avvento diverso dal solito perché non si tratta né di beauty né di makeup né di cibo ma di gioielli e bijoux ho comprato questo calendario dell'avvento su amazon è una marca tedesca che io non so nemmeno pronunciare ve lo avvicino così lo vedete meglio è questo io non so il tedesco quindi è inutile che io provi a pronunciare questo nome tanto sicuramente lo pronuncerai sbagliato però vi lascio giù in info box il link di amazon sul quale potete reperire questo calendario mi incuriosiva tantissimo proprio l'idea di avere tanti piccoli bijoux ciondolini braccialettini catenine insomma cose di questo tipo quindi adesso andiamo subito a vedere insieme com'è questo calendario voglio aprirlo con voi e vediamo se ho fatto bene o no ad acquistarlo andiamo ad aprire subito la prima casella ecco nella numero 1 c'è un ciondolo a forma di stella eccolo qua è veramente carino non è neanche piccolo perché comunque la dimensione è abbastanza grande tutto sommato quindi devo dire che come inizio partiamo bene perché è veramente carino questo poi andiamo ad aprire la numero 2 la numero 2 c'è una catenina dorata è una catenina dorata che non ha ciondoli è una semplice catenina che servirà ovviamente per andare ad appendere i ciondoli che troviamo nel calendario quindi insomma mi fa piacere che ci sia la catenina andiamo con la numero 3 vediamo subito la numero 3 è qua la parte difficile dei calendari è aprire le finestrelle perché sono veramente sigillati quasi come se avessero paura che qualcuno li possa aprire c'è un piccolo portacchiavi ad angioletto eccolo qua anche questo secondo me è carino la qualità è bella è un argento che brilla molto quindi devo dire che insomma per adesso mi sta piacendo abbiamo aperto solo tre caselline quindi è presto per dirlo però per il momento devo dire che non mi dispiace andiamo a vedere la numero 4 c'è un ciondolo con una perlina ecco questo ciondolo qua dorato con la perlina bianca al centro questo anche carino è comunque uno di quei ciondoli che vanno abbastanza di moda e anche questo non è affatto piccolino sono abbastanza grandi tutto sommato andiamo a vedere la numero 5 che è qua e sto anche trovando velocemente di solito io nei calendari mi perdo non riesco a trovare i numeri invece questa volta sì questo è un altro piccolo portacchiavi con una foglia d'argento eccolo qua carino anche questo devo dire che è carino molto poi ovviamente questi sono dei portacchiavi perché hanno il gancetto così però volendo potete toglierlo e utilizzarli come ciondoli da mettervi comunque al collo io credo che poi li utilizzerò come ciondoli perché portacchiavi comunque li uso poco poi la casellina numero 6 c'è credo un'ala d'angelo io credo che questa sia un'ala dell'angelo anche questa è carina particolare molto molto suggestiva se ci pensiamo perché le ali d'angelo sono qualcosa anche di simbolico poi apriamo la numero 7 io ho posato il calendario per comodità ma ce l'ho sempre qui la numero 7 vediamo che cos'è è una stella però diversa da quella di prima perché una stella dorata quindi diversa da quella che abbiamo trovato nella numero 1 è una stella dorata con tutti gli strass argentati al centro anche questa la trovo carina e questa si può utilizzare con la catenina dorata che abbiamo trovato prima poi la numero 8 vediamo cosa c'è nella numero 8 questo calendario devo dire che mi sta piacendo perché a me piacciono tantissimo i ciondoli c'è l'albero della vita ve lo faccio vedere senza la confezione perché era aperta eccolo qua questo è l'albero della vita quindi un altro ciondolo a tema simbolico perché l'ala d'angelo l'albero della vita sono tutti simboli comunque che per me che studio esoterismo e materie di quel genere hanno comunque un significato poi andiamo ad aprire la numero 9 nella numero 9 c'è un bellissimo fiore d'argento eccolo qua è fatto in questo modo ricorda un po il quadrifoglio insomma un fiore di questo tipo molto carina poi queste cose volendo le potete mettere anche tutte insieme magari se volete fare una catenina che abbia misure diverse con tre ciondoli diversi oppure un braccialettino con tanti ciondoli credo che si possano utilizzare in molti modi poi la numero 10 nella numero 10 c'è una bellissima farfalla argentata eccola qua questa è una farfalla veramente carina anche questa mi piace molto poi apriamo la numero 11 e vediamo che c'è un'altra stella simile a quella di prima perché è sempre con gli strass però anziché essere dorata questa volta è argentata quindi ne abbiamo trovato due uguali solo che una è d'oro e una è d'argento d'oro dorata perché comunque è bigiotteria però una dorata e un'argentata poi la numero 12 vediamo se trovo la casellina eccolo abbiamo un altro ciondolo a forma di goccia questa volta al bordo dorato gli strass argentati all'interno la numero 13 vediamo cosa c'è devo dire che questo calendario mi piace perché a me piacciono tantissimo le cose di bigiotteria ciondoli orecchini braccialetti collanine insomma tutte queste cose è un'altra goccia però questa volta è tutta argentata eccola qua è un altro ciondolo anche questa comunque è carina perché si può alternare un po' dorata un po' argentata poi la numero 14 vediamo che cosa ci regala eccola qua in alto perché devo anche trovare come vi dicevo le caselline e cercare di aprirle perché non è così banale qui abbiamo una catenina d'argento ecco finalmente abbiamo la catenina d'argento nella quale possiamo andare a mettere tutti i nostri ciondoli poi la numero 15 abbiamo una bellissima stella che è come quella della numero 1 ma è dorata quindi eccola qua la stella dorata mi sembra che questo calendario stia facendo gli stessi ciondoli nella versione argento e nella versione dorata il che potrebbe essere anche una cosa molto originale e un po' fantasiosa andare ad utilizzare magari il ciondolo per farvi degli orecchini andando ad alternare il dorato con l'argento perché no potrebbe essere un'idea oppure potete sempre fare dei piccoli regalini magari regalare un ciondolino per fare giusto il pensierino insomma è una cosa secondo me carina avere le due versioni non mi dispiace devo dire che non mi dispiace poi andiamo avanti con la numero 16 se la trovo eccola qua in alto è una foglia dorata eccola qua ve la faccio vedere se ci riesco eccola questa è una foglia dorata credo che sia un portachiavi perché ha il gancetto fatto in quel modo ma come vi dicevo prima si possono anche togliere i ganci e utilizzare poi i ciondoli per andarveli a realizzare la numero 17 è un fiore dorato con gli strass argento la numero 18 è molto carina perché abbiamo di nuovo l'albero della vita però questa volta è oro e argento quindi veramente carino è un bellissimo ciondolo con l'albero della vita quindi direi che la mia ipotesi che il calendario abbia gli stessi ciondoli nella versione dorata e argentata si sta facendo sempre più strada perché stiamo trovando gli stessi ciondoli nelle due versioni però come vi dicevo a me non dispiace perché possono anche essere utilizzate per fare dei regali queste cose oppure per alternare voi stessi oro e argento secondo me non è male insomma non mi sta dando fastidio questa cosa anzi poi la numero 19 vediamo dov'è eccola qua abbiamo l'angioletto dorato eccolo qua questo è l'angioletto dorato è carino anche questo è molto carino poi la numero 20 vediamo che cosa ci regala la numero 20 un altro ciondolo con l'albero della vita ma diverso da quello di prima perché questo qui diciamo è più semplice nella sua nel suo design perché ha proprio soltanto l'albero della vita senza gli strass senza il bordo più spesso ed è comunque carino e nella numero 21 indovinate un po cosa c'è l'albero della vita argentato eccolo qua io questo forse lo potrei regalare perché ce l'avevo già il ciondolo con l'albero della vita è comunque una cosa che simbolicamente ha il suo significato poi il numero 22 vediamo quello che ci dà il numero 22 abbiamo la farfalla dorata eccola qua la farfalla dorata poi nella numero 23 vediamo cosa c'è abbiamo l'ala dell'angelo di nuovo però dorata eccola qua e poi nell'ultima casellina che è la numero 24 chissà cosa c'è vediamo un po se c'è qualcosa di particolare c'è il ciondolino con la perla quindi questo nella versione dorata quindi il ciondolino rotondo con la perlina al centro beh ragazzi devo dire che a me è piaciuto questo calendario l'unica cosa da segnalare che contiene gli stessi ciondoli nelle due versioni dorata e argentata quindi voi avete una coppia di ciondoli una dorata e un'argentata quindi tenetelo presente se volete 24 cose diverse qua non ci sono qui ce ne sono 12 argentate e 12 dorate ma nella stessa tipologia però devo dire che a me non dispiace posso anche realizzare degli orecchini che siano spaiati quindi dorato e argentato oppure mettere due ciondoli insieme nella versione dorata nella versione argentata posso fare dei regali posso utilizzare il ciondolo come collana magari argentato e poi il braccialetto con lo stesso ciondolo che però sia dorato quindi insomma secondo me vi potete veramente sbizzarrire con una serie di idee diverse e una di queste può essere anche perché no fare dei regali con quello che magari non vi piace o che non utilizzate quindi è un calendario che io ho pagato poco e che devo dire mi ha dato soddisfazione quindi mi è piaciuto vi invito come sempre a farmi sapere nei commenti qual è il vostro calendario dell'avvento preferito io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme grazie